ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai cap camera cap camera square perché è quadrato square quadrato chi di voi mi segue saprà che questo orologio appena è uscito no mi ha subito colpito non sono mai riuscito a portarlo sul canale perché era sempre non era mai pronto il negozio nel senso che arrivava e veniva subito venduto il tempo che stava lì che la sua giacenza in vetrina era talmente ristretta che ogni volta che mi presentavo il negozio dal buon giacomo non era mai disponibile c'era quello al quarzo ma perché fare la recensione di un orologio al quarzo quando esiste la sua versione automatica niente ho aspettato 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 e finalmente il buon giacomo me lo ha messo a disposizione me lo ha messo a disposizione perché è parte un ufficiale del canale la gioielleria pasquale domenica di viareggio no che vi offre anche un trattamento di favore essendo concessionario del marchio voi telefonate e vedrete il trattamentino dicevo l'orologio finalmente ci ho messo le mani sopra mi è sempre piaciuto questo orologio stranamente gli orologi quadrati il monaco più che altro la differenza quale è lo spigolo perché il monaco è molto spigoloso e parte subito il cinturino in questo caso qua invece abbiamo una cassa quadrata si ma stondata e questo qua mi piace mi piace come il santos mi piace no hanno la cassa un po stondata rispetto al monaco quindi hanno qualcosa di differente tra l'altro questa versione qua che ho di cui sono in possesso io è esclusiva della gioielleria pasquale domenici perché perché il quadrante nero esiste solamente con il cinturino se volete quello col bracciale esiste solamente in versione con il quadrante blu andate sul sito di herbalen e lo vedete qual è il discorso che lui se le fatti mandare già così quadrante nero e bracciale in acciaio già dalla fabbrica da herbalen e quindi non c'è problema è una per adesso è una esclusiva sua ho avuto questa idea questa intuizione che d'altronde non è che ci voleva la scuola no mi fa il quadrante blu col bracciale fammelo anche nero col bracciale no ci ha pensato lui quindi questa qua diciamo che un pochino una piccola esclusiva per il resto devo anche aggiungere un piccolo particolare quasi va sul personale è questa questa recensione qua la faccio per il mio cugino è mio cugino giacomo anche lui si chiama giacomo ciao giacomo che su whatsapp mi ha scritto simpaticamente che voleva la recensione di questo orologio quindi è una una recensione ad persona lui mi ha chiesto e io ho dovuto ho dovuto farla bravo ha fatto una bella richiesta adesso vi mostro l'orologio del giorno che questo simpaticissimo brightling cronomat 40 mm di diametro cassa suo bellissimo calibro eta 28 93 certificato cost un calibro di fornitura niente di che ma è l'orologio che è bello capito cioè non è che io guardo il calibro guardo l'orologio l'orologio è bello gioiellino e quindi mi garbicchia tanto poi i punti deboli ce li hanno tutti gli orologi dai su via adesso giriamo la camera guardiamo la panoramica di questo airblend cap camera square e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali partiamo con le solite considerazioni iniziali a riguardo delle proporzioni generali diametro cassa 39 mm spessore 10.5 e in gombro trasversale al polso 47 mm non ho riportato la misuranza in quanto si tratta di un orologio a bracciale integrato nel senso più stretto del termine e con ciò intendo che è impossibile montare un cinturino aftermarket standard sia perché non vi è sistema di fissaggio classico sia perché è complesso smontare il bracciale voglio dire è stato fatto perché questa versione nera arriva solitamente col cinturino ma è stato fatto alla fonte direttamente dalla airblend stessa sinceramente non mi cimenterei in uno smontaggio fai da te a tal proposito occorre anche rimarcare che il segmento di congiunzione cassa bracciale è fisso e la conseguenza è che va a spostare il punto di snodo del bracciale leggermente verso l'esterno ciò non comporta alcun fastidio al polso in quanto piuttosto inclinato verso il basso e in quanto visivamente considerabile come facente parte del bracciale un orologio di forma che spicca anche per la sua contenuta dimensione in spessore 10.5 mm sono da considerarsi pochi e in un orologio di forma quale è questo giocano un ruolo fondamentale se è sopportabile un orologio tondo spesso lo è meno uno quadrato stilisticamente parlando incontriamo un'architettura a strati che vede la sagoma cassa ripetuta sia per la lunetta sovrastante che per il fondello sottostante quest'ultimo è tenuto in sede grazie a sei semplici viti che parrebbero prodromiche ad una scarsa impermeabilità in realtà stiamo parlando di un orologio che può resistere a ben 100 metri a discapito anche della corona a pressione un dato quasi sorprendente se si considera anche l'esiguo spessore generale sempre a livello di stile occorre poi mettere in luce alcuni dettagli che conferiscono alla cassa quel pregio visivo che si percepisce da subito ad esempio la lunetta piatta è spazzolata verticalmente con quelle viti lucide a contrasto che fanno capolino ogni qual volta si inclina il polso oppure la finitura laterale della cassa anch'essa spazzolata longitudinalmente e che vede il lato verticale della lunetta lucido e fortemente a contrasto ma anche quel sottile bisello lucido sulle anse quasi impercettibile ad occhio nudo e visibile solo ingrandendo un dettaglio di quelli che non si vedono ma si percepiscono nella globalità insomma un orologio con lavorazioni così curate da farlo entrare di diritto nella categoria degli orologi chic a spostare un poco il suo spirito arriva il lato corona laddove la presenza delle spallette di protezione ci va ad indicare un mood differente più sportiveggiante senza però rinunciare allo stile in quanto il design è pur sempre riconducibile alla ricerca del dettaglio e della finezza visti finora e soprattutto è la continuazione dell'architettura della lunetta con quei raccordi tondi ad unire le superfici tecnicamente parlando invece abbiamo il piacere di incontrare il solito classico sellita sv200 niente di nuovo quindi sotto il cofano motore un calibro che pare essere il più utilizzato da quelle case che si rivolgono a terzi e che vogliono mantenere elevata la qualità viene qui incassato nella sua versione standard priva quindi di particolari decorazioni e finiture cosa che leggermente stride con quanto visto finora in quanto l'aspetto semplice non mi sembra l'altezza delle finiture della cassa e dei dettagli esterni anche in questo caso un fondello chiuso sarebbe stata la scelta migliore e forse avrebbe anche permesso di limare ulteriormente lo spessore è risaputo che il trasparente sul fondello porta con sé qualche decimo in più ma torniamo al lato a e diamo uno sguardo per capire se è all'altezza della situazione il vetro zaffero è piatto e perfettamente a filo con la lunetta come ci si aspetterebbe e come ritengo sia giusto a raccordarlo con il quadrante ci pensa il reo inclinato che accompagna lo sguardo fino ad incontrare la lavorazione principale che caratterizza incisivamente il fondo una serie di scanalature orizzontali che vivacizzano l'aspetto e mettono in evidenza una certa profondità generale che è sempre facilmente apprezzabile diciamo che è come sparare sulla croce rossa spiccano poi gli indici applicati in rilievo a finitura metallica la cui parte terminale è tagliata di netto in modo da risultare sempre parallela al lato di pertinenza si forma così un ulteriore quadrato anche se virtuale nel quale sono poi iscritte le due uniche semplici diciture fa gioco anche il datario ad ore 6 scelta quasi obbligata in un orologio quadrato o rettangolare immaginiamoci un quadrante rettangolare con data ad ore 3 poco attraente direi insomma un quadrante che vede tutti gli elementi al posto giusto e che ci riestituisce uno stile formale e sportivo che appare anche ben leggibile non fatevi ingannare dalle immagini però le scanalature orizzontali vengono eccessivamente evidenziate dalla luce diretta dello studio nella realtà non sono così accentuate anche se di foggia classica gli indici e le sfere non rinunciano ad un minimo di luminescenza notturna vi è infatti una piccola striscia bianca presente che in assenza di luce ci permette di individuare gli accenti e leggere l'orario non male come risultato per quanto riguarda il bracciale ci troviamo di fronte ad un elemento in tutto e per tutto simile a quello del cap camera tondo l'unica differenza sostanziale è che questo pur rastremando verso la chiusura lo fa meno rispetto all'altro ed è una soluzione comprensibile visto che un orologio quadrangolare ha bisogno di un bracciale più vistoso che sappia compensare nel modo giusto la presenza della testa in cerca del necessario equilibrio visivo il design è quanto originale con ben quattro segmenti smussati che vanno a formare un'unica maglia le quali sono poi raccordate da un segmento lucido che si ripete per tutta la lunghezza del bracciale nulla da eccepire sulla qualità spessore coerente al resto dell'orologio e chiusura farfalla solida e precisa come sempre una scelta che porta con sé una certa difficoltà nel mettere a misura il bracciale ci vengono incontro due mezze maglie poste sui due spezzoni in modo da rendere un minimo più semplice la ricerca della giusta lunghezza per il proprio polso possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali mi ripeto è curioso come questo orologio mi stia bene al polso me lo vedo bene poi tutta una questione soggettiva come uno se lo vede no magari io me lo vedo bene gli altri dicono ma ti sta malissimo come me lo vedo bene io al polso rispetto al monaco no mi ripeto ma è proprio una cosa veramente strana mi piace forse sarà lo spessore non lo so il punto i punti deboli di questo orologio avete visti quali sono la chiusura farfalla e la conseguente regolazione non che sia un minus in senso assoluto però anche io ho degli orologi con la chiusura farfalla è più elegante perché ti viene bracciale tutto eccolo qua chiuso la farfalla il bracciale tutto sulla stessa linea non si vede niente però ogni volta che devi regolare la lunghezza devi smontare o montare una maglia ed è veramente un pain in the ass come dicono gli americani anche in questo qua io non ci vado a smontare la maglia poi di questo qua è anche più sono queste qua con i cilindretti una palla smontarle quindi lo tengo così quello lì è la punto debole è quello lì altri punti deboli forse le righe del quadrante ora nelle condizioni normali non si vede niente cioè si vede un orologio con un quadrante tridimensionale anche bello a vedersi in certe condizioni di luce ci sono queste righe qua che lo possono sembrare far sembrare un pochino fuori dalle righe vabbè un pochino diciamo troppo troppo vistoso però sono dei punti deboli pretestuosi perché io non ne ho trovati veramente di punti deboli 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 i punti forti invece sono sicuramente le finiture della cassa del bracciale finiture di primo ordine fatto bene e lo spessore lo spessore è veramente un orologio sottile 10.5 mm sfido chiunque poi con selite sv200 che non è nemmeno tra i più tra i più sottili di calibri no e poi l'impermeabilità dei 100 metri buttiamoci dentro quella lì un orologio che pur avendo la corona pressione hai la possibilità di utilizzarlo in qualsiasi situazione anche anche al mare per sbaglio volendo no ti sbaglio vai al mare con quello 100 metri c'è gli ha e sei a posto ragazzi poi ho veduto tutte le cosine vi ho fatto vedere tutte le fotografie le immagini le macro no in modo che potete vedere l'orologio sì no sì no sì no al polso com'è e poi vi decidete voi cioè non è che vi devo dire io oppure cioè decidete voi lo vedete la qualità chiaramente non stiamo parlando di ciofeche mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love